la motivazione Rubino ricordati che le mie prime parole appena nato sono state macchia toccate e comunque Paolo Bitta non ha mai posso? no Bitta, il regolamento olimpico parla chiaro la grappa è topica che Paolo Bitta non si adatta al cambiamento quindi o il cambiamento si adatta a Paolo Bitta o so come e io gli consiglio di disegno